Guarda la tua mano! Il primo sapone fu fatto con le ceneri di eroi, come le prime scimmie mandate nello spazio. Senza dolore, senza sacrificio, non avremmo niente. Tentai di pensare alle parole e ustionare, carne. Sventila! Questo è il tuo dolore, questa è la tua mano che brucia, eccola! Vado nella mia caverna a trovare il mio animale guida. No, non fare come fanno quei cadaveri ambulanti, andiamo! Ho capito, lasciati, prego! No, quello che senti è illuminazione prematura. È il momento più importante della tua vita, lo perdi perché sei altrove! Non ti prego, non ti prego! Stanzito, basta! I nostri padri per noi erano come Dio, se loro se la svingnavano. Questo cosa ti fa pensare di Dio? No, non lo so! Stammi a sentire. Devi considerare la possibilità che a Dio tu non piaccia, che non ti abbia mai voluto, che con ogni probabilità Lui ti odi. Non è la cosa peggiore della tua vita! Non lo è! Non abbiamo bisogno di Lui! Non lo sono d'accordo! Ma il diavolo, la dannazione, la redenzione, siamo i figli indesiderati di Dio e così sia! Voglio, 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 voglio dell'acqua! O ti versi l'acqua sulla mano e feggiori le cose o guardami! Ma prima ti devi arrendere, prego. Devi avere coscienza, non paura. Coscienza che un giorno tu morirai. Tu non sai cosa si prova! È solo dopo aver perso tutto che siamo liberi di fare qualsiasi cosa. D'accordo. Congratulazioni. Ora hai fatto un passo verso il fondo. Che va cheto? Qu'è non ecco микrit 1954. So. �i Taylor. No ecco! Grazie a tutti.